Domenica intensa, quella appena trascorsa, per gli atleti della SD Bike Team Montiazzurri di Caldarola, impegnati in diverse manifestazioni. La più importante sicuramente è stata la Maratona di Roma, a cui hanno partecipato Gian Vittorio Antenucci e Daniele Cruciani, che hanno chiuso la gara in 3 ore e 17 minuti circa. A Villa Potenza, alla 47esima marcia longa della primavera, Caterina Cavarischi è salita ancora una volta sul podio. A loro picciano invece il primo appuntamento del circuito Transubike con tanti atleti partecipanti.